Il valore aggiunto del sistema culturale sul totale dell'economia regionale è pari al 4%. Solo questo sarebbe sufficiente per motivare la mia adesione al manifesto della cultura lanciato da Il Sole 24 Ore. A sottolinearlo è il presidente della seconda commissione bilancio e programmazione Antonio Autilio di IDV, evidenziando che il manifesto è un vero e proprio appello in cinque punti al governo perché metta la cultura al centro della propria azione per il rilancio economico del paese. Uno strumento in più per noi, aggiunge Autilio, per sostenere la candidatura di Matera, capitale europea della cultura 2019 e per ospitare eventi artistici e culturali internazionali. L'audizione del direttore generale dell'APT Gian Piero Perri in seconda commissione, Continuo Autilio, è stata l'occasione per una conferma del crescente gradimento del nostro patrimonio culturale che attrae un numero sempre maggiore di visitatori nella nostra regione. L'andamento positivo sul fronte della domanda, rimarca Autilio, dimostra una volta di più quanto il comparto culturale meriti una centralità nelle politiche economiche nazionali e regionali per rilanciare l'economia e lo sviluppo.